È tanto che aspettavo, sono emozionato. Grazie a tutti. Non te ne accade mica così. Non te ne accade così. Allora, lui viene anche, o meglio si chiama, potete anche chiamarlo così. Com'è che ti chiami? Oltre buona poi no. Com'è che... Dillo tu. Ricardire un po' il capello di regi. Ricardire, notate bene. Ricardire. Fate voi. Ultima domanda, poi ti lascio questo abbraccio per Ale, che ci sarà per te per una settimana intera. Consigli dietetici prima del vino? Chiedi alla persona giusta perché io niente non ho mai fatto, non è quando correvo a altissimi livelli. Continua a poter essere successo, ma vede così. Bisogna mangiare tutto, tutto genuino e dopo quando si fa fatica si smaltisce tutto. Anche del buon vino, va tutto bene. Non troppo. E' un mito, è un grande, è un esempio. Tipo anche di parte, una buona.